Ciao amici, sono in aeroporto e sto per imbarcarmi per un volo internazionale, ma siccome in molti mi avete scritto chiedendomi di parlare della nuova legge sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis, e siccome ho anche visto in queste ore che numerose pagine Instagram stanno spacciando questa legge come già in vigore, è necessario fare un po' di chiarezza. Così, in attesa di imbarcarmi, eccovi alcune informazioni fondamentali. Ugo dalla regia, manda la nostra sigla. Questa è la legge! La prima questione che dovete ricordare è che oggi la coltivazione di poche piantine di droga al massimo tre non è reato ma illecito amministrativo. Se infatti ad un controllo dovesse risultare che il quantitativo della sostanza drogante è sufficiente appena per l'uso personale, sia esso terapeutico o meno, non scatta alcuna incriminazione. Si rischiano però le sanzioni per il normale possesso di marijuana per uso personale, cioè la sospensione della patente o del porto d'armi o del passaporto. La seconda questione che dovete ricordare e che dovete sapere è che quella che è passata in questi giorni è solo la proposta di legge che è stata approvata dalla Commissione Giustizia nel testo base. Quindi non è legge, vuol dire che domani non potete andare a comprare i semini perché commettereste ancora un illecito amministrativo. Il testo, peraltro, dovrà essere rivotato in Commissione perché la Lega ha presentato degli emendamenti. Quindi quello passato, ripeto, è solo il testo base, ci saranno delle modifiche e solo all'esito di queste la proposta passerà poi in Parlamento per il voto delle due Camere. Insomma, ancora dovete aspettare. Veniamo ora al contenuto della proposta di legge. Il testo base della nuova normativa vuole rendere lecita la coltivazione della cannabis di non oltre quattro piantine femmine, sono quelle che producono, cioè l'influorescenza che contiene il THC, quindi né illecito penale né amministrativo. Negli Stati Uniti questo fenomeno su larga scala ha generato 300.000 posti di lavoro e quindi si spera che l'effetto in Italia sia lo stesso. Inoltre, secondo il confronto con gli altri paesi che hanno legalizzato la coltivazione, la sostituzione del mercato illegale con quella legale potrebbe portare un notevole beneficio per la salute dei cittadini. La coltivazione in casa di canapa potrebbe poi aiutare i malati che devono fare uso terapeutico. Ed infine si vuole combattere in questo modo lo spaccio. Nel testo è prevista anche una notevole riduzione di pena per i fatti di lieve entità, ma si aumenta fra 6 e 10 anni le pene per i reati connessi a traffico, spaccio e detenzione ai fini di spaccio della cannabis. Dunque, cosa cambia da oggi? Praticamente nulla. Perché, come vi ho detto, il testo non è stato ancora approvato dal Parlamento. Che chance ci sono che il testo allora venga approvato? La maggioranza al momento è spaccata. Hanno votato contro Lega, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e Forza Italia. Italia Viva si è astenuta mentre hanno votato a favore tutti gli altri di più Europa, il PD, Movimento 5 Stelle e l'EU. Questa sarà la legge? Ma, ai posteri l'ardua sentenza. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.